Immaginare gesti barriera contro il ritorno alla produzione per crisi Bruno Latour Potrebbe esserci qualcosa di inappropriato nel guardare all'area post-crisi quando potrebbe esserci qualcosa di inappropriato nel guardare all'area post-crisi quando gli operatori sanitari sono ancora in prima linea Milioni di persone stanno perdendo il lavoro e molte famiglie in lutto non possono nemmeno seppellire i loro morti Eppure è proprio questo il momento di lottare affinché la ripresa economica una volta terminata la crisi non ci riporti allo stesso vecchio regime climatico contro il quale finora abbiamo tentato senza successo di combattere In effetti la crisi sanitaria è inserita in quella che non è una crisi sempre passeggera per definizione ma piuttosto una mutazione ecologica duratura irreversibile Se abbiamo delle buone possibilità di uscire dalla prima ne abbiamo ben poche di uscire dalla seconda Le due situazioni non sono alla stessa scala di grandezza ma resta illuminante articolarle l'una con l'altra In ogni caso sarebbe un peccato non riflettere sulla crisi sanitaria per scoprire altri modi di entrare nella mutazione ecologica piuttosto che farlo alla cieca La prima lezione del coronavirus è anche la più sorprendente È stato infatti provato che in poche settimane è possibile sospendere in qualsiasi parte del mondo e allo stesso tempo un sistema economico a detta di tutti impossibile da rallentare o redirezionare A tutti gli argomenti degli ambientalisti sul cambiamento dei nostri stili di vita si rispondeva sempre con l'argomento della forza irreversibile del treno del progresso che niente poteva far deragliare a causa si diceva della globalizzazione Tuttavia è proprio la sua natura globale che rende così fragile questo sviluppo capace invece di frenare e poi fermarsi improvvisamente In effetti non sono solo le multinazionali o gli accordi commerciali o internet o gli operatori turistici a globalizzare il pianeta Ogni entità su questo stesso pianeta ha il suo proprio modo di agganciarsi agli altri elementi che costituiscono a un certo punto l'insieme Questo è vero per la CO2 che riscalda l'atmosfera globale attraverso la sua diffusione nell'aria Per gli uccelli migratori che trasportano nuove forme di influenza Ma è anche vero, lo impariamo ancora e dolorosamente, per il coronavirus La cui capacità di connettere tutti gli esseri umani passa attraverso l'intermediario apparentemente innocuo del nostro espettorato I virus sono dei super globalizzatori Quando si tratta di risocializzare miliardi di esseri umani i virus lo fanno in fretta Ecco allora l'incredibile scoperta C'era davvero nel sistema economico mondiale nascosto a tutti un segnale d'allarme rosso vivo con una grossa maniglia d'acciaio temprato che i capi di stato, ciascuno a sua volta, potevano tirare subito per fermare il treno del progresso con un forte stridio di freni Se la richiesta di virare a 90 gradi per atterrare sulla terra sembrava a gennaio ancora una dolce illusione diventa improvvisamente molto più realistica Qualsiasi automobilista sa che per avere la possibilità di dare un'ultima sterzata senza andare fuori strada è meglio aver rallentato prima Sfortunatamente questo improvviso arresto nel sistema di produzione globalizzata non sono solo gli ambientalisti a vederlo come una grande opportunità per far avanzare il loro programma di sbarco I globalizzatori, quelli che dalla metà del XX secolo hanno inventato l'idea di fuggire dai vincoli planetari anche loro vedono in esso una formidabile possibilità di rompere ancora più radicalmente con ciò che li ostacola nella loro fuga dal mondo Per loro è troppo bella l'occasione di sbarazzarsi del resto dello stato sociale della rete di sicurezza dei poveri di quello che rimane delle normative anti-inquinamento e più cinicamente di sbarazzarsi di tutte queste persone sopra il numero che ingombrano il pianeta Non dimentichiamo infatti che dobbiamo supporre che questi globalizzatori siano colpevoli dei cambiamenti ecologici e che tutti i loro sforzi da 50 anni a questa parte siano diretti non soltanto a negare l'importanza dei cambiamenti climatici ma anche a sfuggire alle loro conseguenze costituendo bastioni fortificati di privilegi che devono rimanere inaccessibili a tutti coloro che è bene lasciare in disparte Nel grande sogno modernista della condivisione universale dei frutti del progresso non sono abbastanza ingenui da crederci ma la novità è che sono abbastanza sinceri da non darne nemmeno l'illusione Sono coloro che si esprimono ogni giorno su Fox News e che governano tutti gli stati del pianeta scettici del cambiamento climatico da Mosca a Brasilia e da Nuova Delhi a Washington passando per Londra Ciò che rende la situazione attuale così pericolosa non sono solo le morti che si accumulano ogni giorno di più ma è la sospensione generale di un sistema economico che offre a coloro che vogliono andare molto più lontano nella fuga fuori dal mondo planetario una meravigliosa opportunità per rimettere tutto in discussione Non dobbiamo dimenticare che ciò che rende i globalizzatori così pericolosi è che sanno evidentemente di aver perso che la negazione del cambiamento climatico non può durare all'infinito che non esiste più possibilità di conciliare il loro sviluppo con le varie sfere del pianeta in cui sarà necessario finire per inserire l'economia Questo è ciò che li rende pronti a tentare qualsiasi cosa per ottenere un'ultima volta le condizioni che permetteranno loro di durare un po' più a lungo di proteggere se stessi e i loro bambini Il blocco del mondo, questa frenata, questa pausa inaspettata offre loro l'opportunità di fuggire più velocemente e più lontano di quanto abbiano mai immaginato I rivoluzionari, al momento, sono loro È qui che dobbiamo agire Se l'opportunità si apre a loro, si apre anche a noi Se tutto viene fermato, tutto può essere rimesso in discussione flesso, selezionato ordinato, interrotto per davvero o al contrario accelerato È ora il momento di fare l'inventario annuale Alla richiesta data dal buonsenso Riavviamo la produzione il più rapidamente possibile Dobbiamo rispondere con un grido Assolutamente no L'ultima cosa da fare sarebbe rifare esattamente ciò che abbiamo fatto prima Ad esempio, l'altro giorno, un fiorista olandese è stato presentato in televisione Con le lacrime agli occhi Costretto a lanciare tonnellate di tulipani pronti per la spedizione Che non poteva più spedire via aerea in tutto il mondo Per mancanza di clienti Non possiamo che compatirlo, ovviamente È giusto che debba essere compensato Ma poi la telecamera arretrava Mostrando che i suoi tulipani li faceva crescere fuori terra Sotto la luce artificiale Prima di consegnargli agli aerei cargo di Schipoll In una spiaggia di cherosene Da lì sorge un dubbio Ma è davvero utile prolungare questo modo di produrre E vendere questo tipo di fiori? A poco a poco Se iniziamo ognuno per conto proprio A porre tali domande su tutti gli aspetti del nostro sistema di produzione Diventiamo degli efficaci interruttori della globalizzazione Efficaci, milioni come siamo Come il famoso coronavirus nel suo modo di globalizzare il pianeta Ciò che il virus ottiene dall'umile spettorato che passa di bocca in bocca La sospensione dell'economia mondiale Iniziamo a immaginarlo attraverso i nostri piccoli gesti insignificanti Fatti anche loro uno per uno Vale a dire la sospensione del sistema di produzione Ponendoci questo tipo di domande Ognuno di noi inizia a immaginare gesti barriera Non solo contro il virus Ma contro ogni elemento di un modo di produzione Che non vogliamo riprendere Questo perché non si tratta più di riprendere O influenzare un sistema di produzione Ma di abbandonare la produzione Come unico principio di relazione al mondo Non è una questione di rivoluzione Ma di dissoluzione Pixel dopo pixel Come dimostrato da Pierre Charbonnier Dopo cento anni di socialismo Limitato alla semplice ridistribuzione dei benefici dell'economia Potrebbe essere il momento di inventare un socialismo Che sfida la produzione stessa L'ingiustizia non si limita solo alla ridistribuzione dei frutti del progresso Ma al modo stesso di far fruttare il pianeta Ciò non significa decrescere o vivere a pane e acqua Ma imparare a selezionare ogni segmento di questo famoso sistema Falsamente irreversibile A mettere in discussione ciascuna delle connessioni date per essenziali E a sperimentare passo dopo passo Ciò che è desiderabile E ciò che ha smesso di esserlo Da qui l'importanza capitale Di usare questo tempo di confinamento Imposto per descrivere Prima da soli poi in gruppo Quello a cui siamo legati Quello da cui siamo pronti a liberarsi I canali che siamo pronti a ricostruire E quelli che con il nostro comportamento Siamo determinati a interrompere I globalizzatori Loro Sembrano avere un'idea molto chiara Di ciò che vogliono vedere rinascere dopo la ripresa Industrie petrolifere E navide crociera giganti In primis Sta a noi opporci a loro con un contro inventario Se tra un mese o due Miliardi di umani saranno in grado Al volo Di imparare la nuova distanza sociale Di allontanarsi per essere più solidali Di stare in casa per non ingombrare gli ospedali Possiamo immaginare bene il potenziale di trasformazione Di questi nuovi gesti barriera Rette contro il ritorno all'identico O peggio Contro un nuovo attacco violento Di coloro che vogliono fuggire per sempre All'attrazione terrestre Uno strumento per aiutarsi a scegliere Dato che è sempre bene Accompagnare un'argomentazione Con degli esercizi pratici Proponiamo ai lettori di provare a rispondere A questa piccola lista di domande Questa sarà tanto più utile Quanto più si appoggerà su un'esperienza personale Direttamente vissuta Non si tratta di esprimere le prime opinioni Che vi vengono in mente Ma piuttosto di descrivere una situazione E se è possibile di trasformarla In una breve inchiesta Solo in seguito Se vi date il tempo di combinare le risposte In un paesaggio caratterizzato Dalla sovrapposizione delle descrizioni Riuscirete a giungere a un'espressione Politica incarnata e concreta Non prima Attenzione Non si tratta di un questionario E non è nemmeno un sondaggio È un supporto all'autodescrizione Si tratta di fare la lista Delle attività di cui vi siete sentiti privati Dalla crisi attuale E se vi danno la sensazione di una violazione Delle vostre condizioni essenziali di sussistenza Per ogni attività Indicate se preferireste che riprendessero come prima Meglio di prima O che non riprendano proprio Rispondete a queste domande Domanda 1 Quali sono le attività attualmente sospese Che vorreste non ricominciassero più? Domanda 2 Descrivete A. Perché queste attività vi sembrano nocive Superfule, pericolose, incoerenti B. In che misura La loro scomparsa Messa in attesa Sostituzione Renderebbe più facile Più coerente Svolgere altre attività Che preferireste Scrivete un paragrafo distinto Per ciascuna delle risposte Alla domanda 1 Domanda 3 Quali misure Prevedereste per facilitare La transizione ad altre attività Per tutti gli operai Impiegati, agenti Imprenditori Che non potrebbero più continuare Le attività soppresse Domanda 4 Quali sono le attività Attualmente sospese Che vorreste vedere svilupparsi Ricominciare O ancora Quali attività sostitutive Dovrebbero essere inventate Domanda 5 Descrivete A. Perché queste attività Vi sembrano positive Come rendono più semplici Armoniche Coerenti Altre attività Che vi piacerebbero E. C. Che permettono Di contrastare Quelle che giudicate sfavorevoli Scrivete un paragrafo distinto Per ciascuna delle risposte Alla domanda 4 Domanda 6 Quali misure adottereste Per aiutare operai Impiegati Agenti Imprenditori Ad acquistare Le capacità I metodi I guadagni Gli strumenti Per permettere La ripresa Lo sviluppo La nascita Di queste attività Trovate infine Un modo Per comparare La vostra descrizione Con quella Degli altri partecipanti La stesura E la sovrapposizione Delle risposte Dovrebbero disegnare Via via Un paesaggio Composto da linee Conflittuali Alleanze Controverse E contrasti